Oddio! 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 Oddio santo! Non c'è più il ponte! Prima o poi doveva succedere questo fatto qua, è incredibile! Pronto numero unico emergente? È sempre crollato, è il ponte volante! Come è crollato? È crollato! Come è crollato? Vado a chiedere perché è crollato! Quindi pensa a dare l'allarme subito prima che cadono un miliardo di macchine giù! Numero unico emergenza? In che comune ha bisogno? Genova? Numero unico emergenza? Pronto? Pronto? Sì, è il numero unico di emergenza, ha bisogno? Sì, guardi, è venuto giù il ponte Morandi, è venuto giù! C'è stato un crollo? Sì, il ponte Morandi, è venuto giù la scampata con la cattuzione! Allora, ponte Morandi, via Fillac quindi? Via Fillac, sì, la campata che è sul fiume, è sulla ferrovia, è sull'ancaso! Ma allora le passo, ci sono persone ferite? No, lo so, guardi, io abito qui e ho visto venire giù il ponte, tra l'amato tutto e le due campate centrali sono venute giù! Allora, ponte Morandi, rimanga in linea! Sì, è venuto l'unico viadotto della Morandi! È venuto giù, no? È venuto giù il viadotto della Morandi! È venuto a strada! Sì! Avete già giocati? Avete già aperte? Allora, sì, sì, sì! Allora, viadotto, come si chiama lei? Ah, vi chiamo da via Mansueto, lo vedo qua dalla finestra! Allora, ora non si vede più niente! Sì, passo la polizia, rimanga lì, rimanga lì, eh! Sì, grazie! Sì, grazie! Sì, grazie! Sì, grazie! Sì, grazie! 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 Grazie!